Se sono residente in Italia e lavoro all'estero, devo in teoria pagare le tasse in entrambi i paesi, ma in realtà l'obiettivo è di pagare le tasse una volta sola. Quindi se io ad esempio ho un appartamento in Italia, ho il mio domicilio, la mia famiglia in Italia, ma svolgo attività all'estero, ovviamente lo stato in cui vado a svolgere la mia attività lavorativa andrà a tassare i miei redditi, che in questo caso saranno di lavoro dipendente o anche lavoro autonomo, a seconda dell'attività svolta. Però se io mi dichiaro ancora residente in Italia, dovrò sulla base della normativa italiana comunque dichiarare questo reddito in Italia per poi andare a chiedere eventualmente o un credito d'imposta oppure richiedere che questo reddito prodotto all'estero e tassato all'estero sia esentato. Dove la differenza tra esenzione del reddito prodotto all'estero e attribuzione di un credito d'imposta per le tasse pagate all'estero in Italia dipende dal trattato contro le doppie imposizioni che l'Italia ha stipulato con il paese in cui il soggetto va a svolgere le proprie attività. Quindi ad esempio se sono un soggetto residente in Italia ma svolgo un'attività di lavoro dipendente in Germania, l'elemento, o meglio il documento a cui dovrò fare riferimento per andare a stabilire come eliminare questa doppia imposizione e quindi evitare di essere tassato due volte sarà il trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania che stabilirà se l'Italia garantirà o un credito d'imposta oppure se andrà ad esentare il reddito che è stato prodotto all'estero. La doppia tassazione si evita utilizzando lo strumento che viene definito convenzione contro le doppie imposizioni sono questi degli accordi di diritto internazionale pubblico, l'Italia ne ha conclusi più di 90 con paesi tanto dell'Unione Europea quanto paesi che sono al di fuori dell'Unione Europea e prevedono un articolo, una disposizione ben definita che è lo strumento o dell'esenzione del reddito prodotto all'estero, che quindi non dovrò neanche andare a portare in dichiarazione oppure andrò, se il meccanismo previsto dal trattato contro le doppie imposizioni siglato dall'Italia prevede, come nella maggior parte dei casi, un credito d'imposta dovrò comunque andare a dichiarare il reddito prodotto all'estero in Italia riportarlo nella mia dichiarazione e poi richiedere un credito d'imposta all'Italia, l'agenzia delle entrate per andare ad eliminare questo fenomeno di doppia imposizione che si chiama giuridica. Ora, cosa si fa quando si verifica la doppia imposizione? Vi è anche in questo caso uno strumento giuridico ad hoc previsto dal trattato contro le doppie imposizioni che si chiama procedura amichevole o la terminologia inglese è MAP o Mutual Agreement Procedure comunque senza scendere in inutili tecnicismi, è una procedura in cui i rappresentanti dell'Italia e dell'altro Stato contraente si incontreranno, tornano ad un tavolo e dovranno andare a discutere della situazione di doppia imposizione, quindi quale dei due paesi, l'Italia o l'altro Stato contraente dovrà procedere alla tassazione che però deve avvenire una sola volta.